Si ride dall'inizio alla fine e non è uno slogan. Se devi dire una bugia di La Grossa, la farsa di Ray Cunei, che sarà in scena a Rossetti ancora questa sera, mantiene tutte le promesse e garantisce due ore abbondanti di divertimento sfrenato ed intelligente, merito di un testo in originale two into one, tipico della farsa inglese, dove fra l'altro nessun personaggio può dirsi minore, che altro non è se non una variazione ulteriore sul tema del tradimento. In tal senso è un ruolo fondamentale giocato da due stanze comunicanti di un albergo di lusso, dove persino lo sbattere delle porte assume un ruolo strategico. Quando fra l'altro ciò accade per una quarantina di secondi senza dialogo, il pensiero dello spettatore più accorto va subito a Blake Edwards. Uno spettacolo del genere che riprende la storica messa in scena di Pietro Garinei, affidata a Luigi Russo, che aggiorna la già perfetta traduzione di Iaia Fiastri, deve contare su un cast perfetto. Da Paola Barali a Marco Todisco nella parte del cameriere cinese, da Nini Salerno ad Antonio Catania, dal grandioso Gianluca Ramazzotti ad una smagliante Paola Quattrini, tutti funzionano alla grande. Ieri alla prima lo spettacolo è stato salutato da applausi a scena aperta e ovazioni alla fine, ma gli spettatori non sono accorsi numerosi come ci si poteva aspettare e soprattutto come lo spettacolo avrebbe meritato. Un dato che necessita di approfondimenti seri, pena la credibilità del pubblico triestino presso le compagnie.